Incredibilmente, l'epigrafe più rock per questo libro l'ho trovata nella Bibbia. Ebbene sì, nel senso che me l'ha segnalata un mio amico, a un certo punto, a un punto importante dell'esodo, Dio disse ad Abramo, bello perché è l'ora di religione improvvisamente, Dio disse ad Abramo, lech lecha, vattene, gli disse il ruolo, vattene, nessuna condizione, vattene, vattene dalla tua terra, vattene dalla tua patria, vattene dalla casa di tuo padre, vattene da casa tua, cioè vattene da chi ti vuole più bene, te ne devi andare, Verdunio avrebbe detto, te ne devi andare, perché? E non lo spingi neanche ad andarsene chissà in che bel posto, gli dice vattene in un posto che non conosci, vattene nel deserto, vattene in ciò che più disconosciuto esiste al mondo.